Cari famiglie, gennaio è il mese in cui vi state chiedendo quale sia il luogo migliore per il vostro bambino che passa dal nido alla scuola dell'infanzia. Vi aspettiamo agli open day delle nostre 25 strutture su Milano e provincia. Troverete uno staff appassionato e competente e un metodo innovativo. Vi aspettiamo, prendete un appuntamento e guardate sul nostro sito. A presto! Grazie!